Voleva sistemare l'antenna televisiva di casa sua, ma è caduto dal tetto facendo un volo di 5 metri per poi sbattere violentemente contro il suolo. Bruttissima disavventura per un rumeno di 63 anni residente a Raffadali, che adesso è ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stato trasportato in elisoccorso dopo l'accaduto. A causa dell'impatto con il suolo, il 63enne ha subito un serio trauma cranico ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti appena arrivato in ospedale. Al momento il rumeno non è in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno facendo luce i carabinieri della stazione di Raffadali, arrivati prontamente nell'abitazione dello sfortunato 60enne per eseguire i primi rilievi, in modo da accertare con precisione la dinamica dell'incidente.